Guarda attentamente questa foto e cerca di capire se vedi un uomo o se vedi un cane. Osserva attentamente la foto, vedi un uomo o vedi un cane? Guarda attentamente se vedi un uomo o se vedi un cane, rispondi alla domanda e adesso ci sarà la risposta a questa domanda. Cara carampana, cara malgasciona, cosa vedi? Un uomo o un cane? Nell'immagine che è passata prima e nella copertina, vedi un uomo o vedi un cane? È molto importante capire questo, vecchia carampana, perché c'è differenza. Allora, le persone che tendono a vedere l'uomo sono persone che stanno dando prevalenza alla razionalità, stanno dando prevalenza all'iperlogicità, stanno dando prevalenza alla capacità di ragionamento e sono leggermente bloccate sulle emozioni. Le persone che vedono il cane sono persone più istintive, che danno luogo alle emozioni, che danno spazio alle emozioni e troppo poco spazio alla ragione. Le persone che riescono a vedere entrambe le cose, sia l'uomo che il cane, a seconda di come vogliono, di come decidono, quelli sono i veri illuminati, quelli sono le vere persone che hanno la forza, che hanno la capacità di decidere, che hanno la capacità di razionalizzare, hanno la capacità di ottenere dei grandi risultati, perché sanno vedere sia l'uomo, sia il cane. Ecco, quindi che è importante saper utilizzare nel modo giusto le emozioni, quando servono, perché le emozioni ci possono dare motivazione, ma è importante anche saper utilizzare la ragione, quando è necessario utilizzare la ragione, perché la ragione, la capacità di ragionare, di ragionamento, ci dà la possibilità di definire dei piani, definire delle strategie. Quindi, cara carampana, cara margasciona, cerca di abituarti a vedere sia l'uomo che il cane. E questa è la cosa fondamentale. Nel frattempo, iscriviti al canale, Massimo Tramasco ovviamente, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, seguimi su TikTok e su tutti i miei social. Instagram è Massimo Tramasco Ufficiale, TikTok, e ovviamente anche sul nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco ti invito a iscriverti, perché è un canale dove potrai imparare qualcosa sulla spiritualità, sull'esoterismo. Caraampana, ciao a tutti!